Il progetto di trasformazione digitale di FDF ha avuto diversi obiettivi e il principale è quello di sviluppare dashboard e distribuirle al fine di monitorare i principali indicatori aziendali. La dashboard del CRM, l'ultimo dashboard che vi vogliamo presentare, ha avuto l'obiettivo di fornire una panoramica generale dell'intero processo di un cliente, dalla creazione di una lead alla dentro. Come sono state distribuite le nostre list 100 tableaux al fine di accedere alle dashboard e valutare quelli che sono gli accessi per capire l'utilizzo appunto di tableaux.